dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini di re biribo 00 capitolo 63 sarà non ho sonno sono le 5 del mattino e vabbè penso che non dormirò tanto fra un'ora mi devo preparare per andare a scuola rimasi a fissare il soffitto per un paio di minuti quando ad un certo punto vedi giulia ciao giulia come stai bene puoi venire un attimo con me dove io poi ho scuola tranquilla non ci metteremo molto va bene mi prese per mano iniziamo a camminare lentamente verso la parete giulia ma che fai non vedi il muro chiudi gli occhi e continua a camminare feci come mi aveva detto e all'improvviso mi ritrovai in una stanza con un proiettore in centro giulia dove siamo siediti mi sedetti per terra e poi arriva un bambino che mi mostrò un nastro piscina e me lo fece vedere poi arriva un altro e mi fece vedere garage poi arriva un altro bambino che mi fece vedere camera da letto infine arrivò giulia e mi fece vedere giardino ogni bambino compresa giulia si sedertero a cerchi attorno a me hai capito sarà no ecco allora guarda questi magari capirai mi fece vedere gli stessi video solo che erano quelli originali dove si faceva vedere l'assassino di quelle famiglie ecco ora hai capito sì ma perché sai troppo adesso andiamo mi prese per mano senza farmi parlare e tornamo in camera mia ora sai chi sono gli assassini di quei delitti te parli e sei morta giulia ma perché sei così così come non eri così prima prima eri più brava ma io sono brava è solo un avvertimento quello che ti ho detto va bene ora vai che devo prepararmi giulia scomparve non ci posso credere io so chi ha ucciso quelle famiglie ma non posso dirlo a nessuno se no è l'ultima cosa che farò non parlerò ormai sono le 6 e 30 scendo giù a fare colazione ciao papi ciao est ciao piccola dissero assieme cosa c'è da mangiare cappuccino e brioche appena comprate non c'è il latte è finito va bene vado per il cappuccino e brioche facciamo tutti e tre colazione e poi andai a prepararmi per andare a scuola sarà muoviti che se no fai tardi arrivo andai verso mio padre e ci dirigevo in macchina scuola arrivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti